Cosa può aver provocato la morte di questi coniugi? Quando c'è una combustione di materiale carbonioso, quindi stiamo parlando di stoffe, di legno, di carta, in presenza di parecchio ossigeno si forma soprattutto anidride carbonica. L'anidride carbonica non è tossica, è quella che abbiamo nelle bollicine della birra, dello spumante per capirci, anche se un ambiente che fosse tutto riempito di anidride carbonica porterebbe all'asfissia. In questo caso, credo che per la mancanza di ossigeno si sia formato tanto ossido di carbonio, che è una cosa intermedia, il carbonio che non si è, per carenza di ossigeno, completamente ossidato. L'ossido di carbonio invece è tossico, perché si lega all'emoglobina del sangue e ne impedisce il trasporto dell'ossigeno a livello di tutto l'organismo. Purtroppo non è solo tossico in questo modo, ma produce come primo effetto torpore e sonnolenza. Quindi chi è colpito dall'ossido di carbonio non se ne accorge, è una cosa non percepibile con l'olfatto in nessun modo, non se ne accorge. Lì probabilmente può essere successo questo, da una parte l'effetto dell'ossido di carbonio e dall'altro proprio la carenza di ossigeno, quindi una sfissia vera e propria. A chi ci ascolta dico che nel caso di incendio eccetera bisogna aprire immediatamente le finestre e fuggire, perché se lì ci fosse stato un ricambio di aria probabilmente si sarebbero salvati. Ci sono strumenti che possono essere utilizzati all'interno delle abitazioni e non solo, e quindi prevenire tragedie di questo genere? Sì, gli strumenti esistono, esistono dei rivelatori, insomma sono macchinette, ma io non credo che sia... Il problema è questo, evitare che i fumi entrino in un ambiente chiuso, quindi qualsiasi stufetta che brucia gas, che brucia kerosene, che brucia nafta, quindi prodotti a base di carbonio per capirci, deve avere un camino e i fumi che tirano fuori i prodotti di combustione all'esterno, perché le combustioni già di per sé, la combustione perfetta non esiste, quella che produce tutta l'anidride carbonica, un tasso di ossido di carbonio c'è sempre, se però arriva un malfunzionamento della stufetta, allora può succedere la tragedia e quindi bisogna evitare nella maniera più assoluta. Questo non vale ovviamente per le stufette elettriche perché non bruciano carbonio.